e salve Simbers io sono Marichelle e oggi siamo tornati nella mini serie di nuove stelle con Jane e come vedete Jane sta piangendo è un po' di giorni che piange perché se vi ricordate nell'ultima puntata nell'episodio 4 Justin le ha fatto una rivelazione e le ha detto che probabilmente i genitori di lei che sono molto famosi e sono scomparsi probabilmente da quello che lui sa sono morti forse e sono stati vittima di un complotto ma non si sa di quale complotto e non si sa se sia proprio vera questa informazione ma ovviamente lei è disperata dopo aver saputo questo e infatti è un po' di giorni che piange però ha anche introdotto nella sua vita tante cose nuove un po' per non pensarci perché deve ancora indagare e un po' perché ormai è una figura di serie B ragazzi nel mondo del cinema infatti Jane ha una nuova inquilina eccola qui ed è una cagnolina ve l'avevo già anticipato sui vari social e nella scheda community di youtube e questa cagnolina si chiama Meryl ecco voi Meryl guardate che carina è bellissima ed è una chihuahua ora non sembra tanto una chihuahua da piccolina ma vedrete che da grande lo sembrerà lo sembrerà adesso è ancora cucciola oh piccola ma soprattutto ha riarredato un po' la casa perché ormai come vi ho detto è una star all'esterno la casa si presenta così è un po' diversa cioè la struttura è uguale non ho voluto ancora allargarla ma non preoccupatevi perché quando arriverà ad essere una star vera e propria ci saranno grandi novità per adesso ci sono piccole novità però comunque l'ho un po' abbellita anche fuori diciamo qui ho messo una sedia da esterno un po' più carina e poi se giriamo attorno andiamo verso il giardino e in giardino ho un po' arredato perché sapete che Jane ama il giardino infatti va sempre a mangiare fuori adesso un po' meno perché è inverno ma generalmente va sempre a mangiare fuori e infatti ho messo un tavolino e questo va benissimo anche per l'estate può mangiare qui tranquillamente qui ho messo una piantina qui ho messo la porticina per gli animali perché adesso abbiamo Meryl quindi infatti poi in casa vedrete le novità qui ho messo dei divanetti guardate con gli amici si può mettere qui può accendere questo d'inverno può assumere un barista o preparare lei delle bevande e è tutto molto molto carino voglio arredare ancora qua fuori però intanto mi piaceva una cosa semplice così non ho cambiato tantissimo però diciamo che ho aggiunto degli oggettini ho dato un tocco un po' più chic appena entriamo infatti abbiamo subito la piantina qua non abbiamo più infatti il computer qui abbiamo la piantina abbiamo la libreria eccola qua abbiamo il computer qui con la bacheca perché vorrebbe trovarsi Jane qualche amico di penna una bacheca poi qui abbiamo lo stereo uno stereo ovviamente tipo giradischi vedete un po' all'antica che era proprio quello di get famous ed è veramente veramente bello e chic proprio da star il divanetto è il solito perché mi piace tantissimo però qui qui c'è la cuccia per animali ovviamente ho cambiato invece il camino che è molto molto più chic la tv quella era già bellissima l'ho messa solo bianca ho aggiunto qualche decorazione e guardate quanto è confortevole bellissimo da questa parte come sapete abbiamo la cucina ma l'ho un po' modificata ed eccola qui infatti è un po' più diciamo carina un po' più elegante è abbastanza semplice ma elegantissima e andiamo verso la camera da letto però la camera da letto l'ho modificata abbastanza infatti eccola qui è molto più chic allora il letto è sempre quello ho cambiato i colori perché comunque l'altro mi sembrava un po' troppo pastoso almeno per adesso però qui abbiamo dei comodini già vedete che sono tipo imbottiti i fiori dei fan qui vabbè ha gli autografi delle persone più famose di lei questi sono attori veri e propri proprio famosissimi poi c'è la sua foto gigante visto che lei sta diventando famosa un bel quadro i suoi amici questi li avevo già fatti vedere e qui ha una cabina armadio guardate qua che bello da vera star e la postazione da trucco trucco e parrucco perché ormai si deve preparare anche a casa e qui ovviamente si allena davanti allo specchio a recitare bellissimo infine il bagno è qui zona salotto è sempre insomma quello il bagno è piccolino ma 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 è cambiato moltissimo perché è super super fastoso adesso guardate qui abbiamo la vasca dorata è super bella guardate qua no vabbè io lo adoro è tutto placcato d'oro anche il tappettino e anche il water è bellissimo è piccolo piccolo ma lo adoro tantissimo giustamente ho cambiato anche la cucina e in cucina c'è ovviamente il mangio per animali ed eccola qui guardate che carina è semplice ma molto molto più carina voglio aggiungere anche qualche decorazione in più guardate dai è carinissima qualche mobile non l'ho potuto cambiare per la questione dei soldi perché non ne ha comunque tantissimi ancora però pian pianino cambierò proprio tutto tutto ed è già più carina intanto Meryl ha perso il suo giochino il giochino per animali l'ha perso ma insomma impariamo a conoscerla comunque ragazzi lei deve farsi forza adesso perché deve scoprire di più sui suoi genitori deve scoprire qualcosa in più sul complotto che c'era dietro ai suoi genitori e lei punta sempre su Justin però non sappiamo se Justin sa qualcosa di in più effettivamente quindi vedremo ragazzi vedremo adesso lei è abbastanza turbata ma deve rimanere lucida e ha deciso di andare in città con Vanessa a fare un po' di shopping per rilassarsi e soprattutto per scegliere un nuovo vestito per la prossima premiazione perché potrebbero anche darle un Oscar infatti adesso manda un messaggio a Vanessa e le dice vediamoci alla città dello shopping e ovviamente Vanessa non può che accettare oh povera guardatene è tristissima non preoccuparti dai che adesso ti tiri su di morale inoltre oggi è il giorno del cibo e delle bevande gratis quindi io direi di andare o lei vorrebbe vedere Justin chiede Justin di diventare il fidanzato piccola vorrebbe teniamogliela come cosa e però adesso ha bisogno di vedere la sua amica andiamo può darsi tra l'altro che troveremo anche la neve perché dove abita lei a Delsol Valley non c'è la neve ma in realtà è inverno quindi speriamo di trovare la neve comunque andiamo qui nella cittadina dello shopping di lusso ovviamente è sempre una cosa per star per superstar e ci andiamo con Vanessa allora Vanessa vieni solo tu lei vuole solo la sua migliore amica andiamo ed eccoci qui ragazzi siamo alla città dello shopping a Newcrest e è bellissima chiunque l'abbia creata ha fatto un lavoro fantastico c'è un po' di tutto qua ovviamente non ci sono solo negozi ci sono anche tipo bar, ristorantini, insomma zone anche in cui rilassarsi e qui come vedete ci sono Jane e Vanessa ma non solo c'è anche la piccola Meryl eccola qua che poi ve la farò vedere meglio nel cast ovviamente perché lei è giocosa, è fedele poi è molto chiassosa ovviamente è un chihuahua ovviamente Vanessa sa già tutto dei genitori di Jane è l'unica che sa veramente tutto perché Jane si è confidata e le ha raccontato quello che ha saputo da Justin quindi insomma lei la può consolare tranquillamente e adesso sono qui insieme e andranno a vedere se c'è un bel vestito per lei intanto vuole mostrarle il cagnolino guardala, guarda il mio cagnolino Meryl glielo sta presentando perché è proprio una novità Meryl è una super novità e adesso si rilassano con un po' di shopping poi potrebbero anche bere qualcosa al bar visto che è la giornata degli sconti sulle bevande e sui cibi quindi vediamo un po' questa cittadina qui ci sono tante luci stile Hollywood mi piace tantissimo ragazzi questa cittadina vedete che qui c'è una vetrina e qui abbiamo un bel vestito che secondo me potrebbe stare molto bene a Jane infatti lei lo ha addocchiato da un po' direi di andare qui con Vanessa magari lo acquistiamo questo invece non mi piace tanto vedete che è proprio una zona tipo stile celebrità mi piace tantissimo qui c'è anche un negozio di dolci guardate cupcake guardate che bello eccoci davanti al negozio allora quanto costa quest'abito? 218 si dai lo compriamo ragazzi lo so ovviamente che potrei prenderlo dal test ma è bello fare queste cosine e poi è bellissimo mandarli insomma nella città dello shopping dai è veramente bello lei intanto aggiorna i fan wow sta veramente bene bellissima oh e gliel'ha messo automaticamente tra i formali però servirà anche una nuova pettinatura e magari un nuovo truppo ovviamente come ti sembra un nuovo vestito? ti piace? tantissimo infatti ho detto sì grazie per essere qui con me so che tu per me ci sei sempre Vanessa ovviamente è contentissima di consolare sempre l'amica oh ragazzi sono diventate migliori amiche oh che belle e ovviamente non possono mancare le foto perché è una star ma ragazzi mentre qui che posa per i paparazzi sta vedendo qualcuno in fondo al viale ma è Justin? ragazzi è Justin è con qualcuna ma non sappiamo chi è questa ma chi è? guardatela abbraccia le dà un regalo adesso oddio ma chi è? no ci fa anche la foto insieme non ci posso credere oddio no si è messa a piangere no no si è messa a piangere perché l'ha vista con una ragazza non ha il coraggio di dire niente però vuole solo scappare via vuole scappare a casa infatti vuole scappare non dice niente neanche a Vanessa ma Vanessa se ne accorta sicuramente ma lei scappa guardatela no no è arrivata a casa ma c'è qualcuno qui dentro è Vanessa è Vanessa che l'ha seguita guardatela uh subito per consolarla perché si accorta anche lei che c'era Justin con qualcuna l'avete visto non sappiamo chi è e quindi lei le sta dicendo stai tranquilla ma non dovevi scappare via così devi devi chiamare Justin e dirgli qualcosa in effetti è vero perché lei è scappata via ma e lei sta dicendo ma hai visto che si abbracciavano che facevano foto che lui le ha fatto un regalo cioè sicuramente è una ragazza che lui frequenta e lei sta dicendo ma no ma forse non è detto dai sorride no chiamalo e risolvi tutto forza e lei fa ok hai ragione magari non era nessuna adesso lo chiamo anche perché lei si sta veramente innamorando di Justin anche se non vuole tanto ammetterlo lei dice a se stessa di averlo un po' tra virgolette usato insomma per capire cosa era successo ai suoi genitori ma invece guardate vorrebbe che fosse suo fidanzato sia un po' innamorata forza fatti coraggio chiamalo che dici verresti perché sai devo farti qualche domanda ti ho visto con una ragazza e volevo chiederti chi era e volevo parlarne con te però ragazzi sorpreso delle sorprese lui le dice dice che non vuole venire che in questo momento non può parlarle di questa ragazza guarda gli dice non posso dirti chi è in questo momento sono occupato scusami e non posso venire da te quindi le sta dando buca e quindi ovviamente lei adesso ragazzi ha messo giù il telefono e ci è rimasta malissimo e adesso dirà a Vanessa di andarsene lei è preoccupata anzi lei è qui che balla perché non si è resa conto di niente dice guarda scusami è successo un guaio però mi ha dato buca devi andartene via mi spiace però Vanessa le ha detto guarda rimani positiva perché va tutto bene vedrai che non è niente lei è sempre positiva Vanessa lei vorrebbe ascoltare Vanessa e infatti sta cercando di rimanere positiva però non è che ci riesca tanto perché quello che ha visto l'ha preoccupata molto sta pensando chi è quella ragazza è sicuramente qualcuna che frequenta Justin e quindi è disperata però lei domani ha un ingaggio importante guardate qua torneo d'onore e ovviamente ragazzi ci andremo insieme il regno di Advoton stava attraversando un periodo difficile ed era pronto a giurare lealtà a un prode cavaliere disposto a guidarlo ma il popolo di Advoton era orgoglioso e non sarebbe mai sottomesso a un cavaliere che non avesse onorato le virtù cavalleresche fu così indetto un torneo d'onore per dimostrare il valore di qualsiasi cavaliere desideroso di salire al trono quindi lei deve adesso sviluppare un po' l'abilità teatrale e poi domani la mandiamo a recitare purtroppo lei adesso non può pensare a Justin deve cercare di pensare che non è niente che anche se Justin le ha dato buca sicuramente il motivo non è grave e che quella ragazza sicuramente non è nessuno intanto di consolazione a la piccola e dolcissima Meryl oh piccolina che direi di vederla subito nel cast visto che ci siamo così ne approfittiamo per vedere anche Jane che intanto si sta esercitando per il giorno dopo e vediamo bene il suo abito ecco adesso la piccola Meryl è diventata Meryl Carter come la padrona ed eccola qui è una chihuahua non sembra perché da piccoli chihuahua non lo so non sembrano i classici chihuahua però eccola qui oh piccolina cara è dolcissima è dolcissima ed è super piassosa è fedele ed è giocosa la adoro tantissimo mentre vediamo il vestito di Jane che si è comprata per un'eventuale cerimonia poi vedremo magari ne prenderà altri magari userà qualcosa di ancora più lussuoso non lo sappiamo allora l'abito va bene però secondo me dovrebbe cambiare pettinatura e mettersi farsi qualcosa di più come dire evidente più carino ok eccola qua guardate l'abito le sta benissimo ha le calze sbirlucicose quindi le ho messo questi capelli ovviamente super perché se la devono premiare lei deve essere vestita veramente bene ma quanto è bella si è presa un abito super adatto secondo me bellissima bellissima non vedo l'ora di seguirla nell'ingaggio intanto ok siamo tornati in modalità vivi lei è a livello 8 di recitazione ma ormai è quasi a livello 9 bravissima tra un po' potrà recitare anche scene drammatiche forza allenati perché ne avrai bisogno per l'ingaggio di domani però ragazzi sta suonando il cellulare è Owen che le scrive il fidanzato di Vanessa e le sta scrivendo come stai come va perché è venuto a sapere da Vanessa che lei insomma non sta tanto bene che ha visto Justin con un'altra e subito lui ha mandato un messaggio a lei da buon amico da buon amico però insomma è un po' strano questo Owen è sempre presente ragazzi è sempre presente lei sta rispondendo comunque contenta e dice beh quasi quasi lo chiamo visto che comunque si preoccupa così tanto è così un buon amico chiacchieriamo un attimo e raccontiamogli com'è andata lei ovviamente è una brava amica e non farebbe mai niente con Owen però dice che bravo ragazzo che si è trovato Vanessa cioè oltre ad avere un'amica fantastica come Vanessa ho trovato anche insomma un amico alla fine e lui si comporta veramente da amico solo a me sembra forse forse appena appena un po' allosco però lei è molto ingenua e non ci pensa ditemi anche voi magari cosa ne pensate nei commenti a me sembra strano che lui subito le abbia mandato un messaggio vabbè io adesso ragazzi la mando a dormire lei ha chiacchierato con Owen e ci vediamo domani con l'ingaggio ok ragazzi è mattina lei si sta cucinando delle frittelle speriamo che non bruci tutto poverina sta migliorando pian pianino in cucina ma pian pianino e sta pensando di mandare un messaggio a Justin prima di andare all'ingaggio pensa sicuramente sarà di buon umore stamattina insomma mandiamogli un bel messaggino durante la colazione invia un sms a Justin ovviamente lei mentre mangia dice ok inviamo l'sms e vediamo poi cosa mi risponde gli sta chiedendo ci vediamo dopo dopo l'ingaggio intanto Meryl vieni qui piccola vieni forza vieni in casa ecco la risposta ragazzi lui gli ha appena detto no scusami non posso non posso proprio venire e lei ovviamente è tristissima però non ci può fare niente dice vabbè se non può venire sicuramente non è una cosa grave e quindi non vuole far troppe domande preferisce insomma lasciar perdere e richiamarlo più tardi però ovviamente è triste oh ragazzi un messaggio da Owen un altro in cui gli chiede come sta e lei è contenta dice ah Owen che gentile vuole sapere sempre come sto perfetto e gli risponde intanto Meryl si è incastrata qui piccolina come hai fatto a incastrarti qui prendi in braccio è qui da un bel po povera piccola portiamola in casa guarda la tua padroncina com'è triste ok portiamola in casa uh no dobbiamo andare va bene è ora che Jane si recchia lavoro vuole seguirla ovviamente si andiamo subito ed eccoci arrivati uh uh che bello andiamo subito a farci pettinare e truccare forza 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 e diamo un'occhiata al set dovrebbe essere una cosa tipo un po' storica un po' particolare questa volta e e e vediamo un po' come infatti sono tutti vestiti un po' così vediamo un attimo eh si oh c'è un trono non ci posso credere ragazzi c'è un trono uh guardate qua ma cosa dobbiamo fare mi sa che oggi sarà complicata la cosa mi piace tantissimo andiamo andiamo sono curiosissima ma come la truccheranno allora oddio mi sto emozionando mi sto emozionando questa cosa perché non me l'aspettavo addirittura un trono forza poverina lei finchè la truccano continua a pensare a Justin guardatela qui guarda uh che bel trucco wow che pettinatura ci fa signorina sono super curiosa super curiosa della pettinatura guardate qua cosa sarà mai ci siamo uh bionda però tipo con le treccine oddio adesso devo vedere assolutamente guardate che belle poi queste treccine le adoro tantissimo a meno che non ci sia sbagliata no penso che sia giusta vediamo sì sì è giusta la pettinatura e quindi andiamo a metterci il costume per l'ingaggio andiamo subito lui sceglie giustamente i colori bravissimo sì questo fa per te vediamo un attimo oh mamma mia guardatela no vabbè no vabbè no vabbè è bellissima cioè no ma vi rendete conto di come è vestita no ricevi appunti dal regista vediamo un po' facciamoci dare gli appunti signor regista ci può dare tutto quello che ci serve vediamo un po' tutti gli appunti per la scena perfetto adesso direi che possiamo dirgli che siamo disponibili a entrare sul palco ad andare sul palco forza ragazzi siate carichi eh che la scena di oggi è incredibile io sono pronta andiamo sono prontissima sì fantastico vediamo si illumina il set sì fantastico allora interpreta la scena di un urlo di una bevuta in compagnia di un racconto di una storia raccontiamo intanto una storia lei racconta la storia di questa bevuta in compagnia partiamo mi raccomando dai il massimo questa è la storia di una compagnia che lottava e beveva e dei bardi imperatori e adesso che abbiamo raccontato andiamo a bere in compagnia mio buon amico tra poco dovrò affrontare una lotta impavida quindi vengo da te a bere qualcosa forza dai il meglio di te pronti abbiamo fatto bene a provare prima beviamo al nostro onore perché ora dovrò lottare bravissima ma probabilmente non andrà a finire bene ragazzi vengo da te e ti sfido non ho paura forza rischiamo non ho paura di te forza 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 mi vuoi affrontare bravo caccialo caccialo vattene via non ti voglio a palazzo se proprio non mi vuoi a palazzo sfidami a duello bravissimo forza devi vincere tu devi vincere tu eccola oddio ragazzi guardatela non ci posso credere oh mamma mia bellissimo bravissima però lei si sente bene e quindi va subito a baciare il suo diciamo il suo amico bacia rischioso forza e gli dice è andato tutto bene è andato tutto bene sono felice ho vinto il duello però il duello ragazzi in realtà è stato molto molto faticoso e lei ha scoperto di amare lui ovviamente ragazzi sul set è tutta finzione anche se si è formato un piccolo flirt non so come mai ma non importa è tutto finto che bello hai vinto il duello eh sì e ora ti bacio però in realtà ragazzi lei è molto molto stanca e infatti dobbiamo interpretare la scena della sua morte signori miei questa è la storia di una ragazza che ha duellato fino all'ultimo e dopo aver dato il suo ultimo bacio non ha più resistito brava preparati e infatti eccola qui perfetta secondo me è stata perfetta ragazzi sì perfettissima complimenti complimenti guardate il regista che felice entusiasmati vai vai abbiamo finito lei era bellissima cioè bellissima è stato bellissimo ragazzi però non sa ancora nulla di Justin che le ha dato buca è il momento di andare a casa ragazzi siamo a casa la nostra Jane è diventata una superstar di quelle che luccicano a quattro stelline quattro Meryl è venuta subito a darci il bentornati guarda qua che bellina celebrità vera e propria quattro stelle ragazzi quattro stelle il modo di camminare di parlare di apparire Jane è una celebrità vera e propria ora per la gente comune è un evento sensazionale intravederla in giro per strada quando è circondata dai suoi ammiratori adoranti può incitarli all'applauso per mandarli letteralmente in delirio Jane è inoltre riuscita ad assumere l'aspetto tipico di un personaggio pubblico in che modo è letteralmente una stella splendente a un nuovo stile di camminata solo alla portata delle vere celebrità per qualsiasi modifica è sufficiente cliccare su Jane bellissimo ci siamo quasi alle 5 stelline e alla fine della miniserie naturalmente quando arriveremo a 5 stelline non subitissimo vedremo un po' come funzionano le 5 stelle ma poi ragazzi dopo le 5 stelle diciamo che saremo arrivati alla puntata finale guardate qua che bello sicuramente svilupperà una nuova stravaganza adoro tantissimo e abbiamo Justin davanti a casa che è venuto a parlarci oh mamma mia chiamalo da te e vediamo cosa vuole sta bussando alla porta sicuramente deve dirci qualcosa di importantissimo intanto lei lucica la adoro la adoro e ragazzi io mi fermo qua vi lascio in sospeso cosa le dirà Justin vediamo un po' aspettiamo che si avvicini si ragazzi vi lascio in sospeso sicuramente Justin è venuto a scusarsi o a comunicarle qualcosa ma cosa le dovrà dire lo saprete nella prossima puntata quindi ci fermiamo qua mettete like se il video è piaciuto lasciate un commento iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti